Alto Vicentino nuovamente bersagliato dal maltempo. Una violenta grandinata si è abbattuta su piovene Rucchette e Chiuppano, lasciando per terra un vero e proprio manto bianco. Grandine e forti equazioni si sono scatenati anche a Valle del Pasubio, a Carrè, Malo, Magrè, mentre un forte vento 50-60 km orari ha colpito nuovamente Arzignano, dove i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per ripristinare i teli posizionati a seguito della precedente ondata di maltempo. Tempo perturbato e instabile che, secondo le previsioni del Centro funzionale decentrato della protezione civile, perdurerà anche nelle prossime ore con precipitazioni a tratti estese sulle zone centro-settentrionali, con possibilità di piogge abbondanti e a questo si aggiunge anche l'allerta vento.